Il gatto adulto può bere il latte? Il gatto adulto può bere il latte? In natura gli animali, qualsiasi specie siano, assumono il latte solamente nella fase di crescita, quindi cuccioli, cuccioloni. Quindi nella fase adulta il latte in natura non viene più assoluto. Ma qualora noi volessimo darmelo perché ci sembra che stia bene o che comunque lo gradisca, possiamo tranquillamente farlo. L'importante è comunque avere una continuità nel somministrare il latte, perché c'è bisogno che il corpo produca un enzima particolare, altrimenti incorriamo in disenterie o malassorbimenti intestinali. Ricordo che il latte che diamo al cane o al gatto è un latte di mucca, quindi non proviene dalla mamma di questo animale, quindi l'assunzione potrebbe essere alle volte un po' difficile. Consiglio piuttosto il latte di capra, che è molto più digeribile. In ogni caso potete tranquillamente somministrarlo, però ricordatevi di avere molta continuità, altrimenti possono esserci dei problemi. Ciao da Daniele, alla prossima! Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bowboys.tv e potrei fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.